E' del tutto inaccettabile! Ma che cosa vuoi da me, Roman? Stanno massacrando i miei uomini! Difficile credere che un solo uomo possa spazzare via la tua ciurma. Non è solo Drake, dannazione! Credimi, quest'isola è maledetta! Basta! Prendi la tua gentaglia e vattene! Aspetta, non puoi sbarazzarti di me! Mi devi una parte dell'oro! La tua parte! Eddie, dipendeva dallo svolgimento di quanto ti ho chiesto. Mi hai assicurato che Drake era prigioniero e che l'isola era sicura. Queste sono stronzate, Roman! Ne lo sai bene! Abbiamo chiuso, signor Raja. Mi puoi ricordare perché hai assunto quell'idiota superstizioso? Era a buon mercato. Beh, pare che chi più spende, meno spende. E cosa mi dici di te, Navarro? Vale il prezzo che ti sto pagando? Il deposito è qui, ne sono certo. Se possiamo fidarci di Saliva... E non possiamo! Senti, sa che lo uccideremo semente. Non essere stupido, sa che lo uccideremo quando avremo il tesoro. Perché dovrebbe dirci la verità? Credimi, Navarro. A volte penso che tu abbia lasciato il cervello nella fogna dove ti ho preso. Mi serve solo un po' di tempo. Trovare questo tuo tesoro si è dimostrato più difficile di quanto valga. Ti assicuro, Eldorado merita più di quanto tu possa immaginare. Me lo auguro. Ehm... Grazie a tutti. 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 Whoa... Yeah... 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 Allora... Yeah... Yeah... Sallivan è fuggito Sparpagliatevi e trovatelo Sparpagliatevi e trovatelo Sparpagliatevi e trovatelo Sparpagliatevi e trovatelo Sì, no! Sì, sì, sì. Sì, sì. Roma e Navarro hanno davvero fatto a pezzi questo posto. Siamo nel posto giusto? Sì. 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 Oh, oh. Oh, mappa. Che diavolo è questo? Sully, esci fuori di... Eh? È una trappola! Sully, tutto bene? Sully! Sì. Sì, sì, bene. Sono intero. Oh. Mi hai davvero stesso, però. Sì, beh, ti conviene tornare alla biblioteca. Dovremmo trovare un altro modo per uscire di qui. Sì. Sì. Beh, si può andare solo avanti. Sì. Sì. Che posto è questo? Un modo molto elaborato per nascondere il dannato tesoro. Da che parte andiamo? Sì. Aspetta un secondo. Ci sono dei numeri romani nell'angolo della mappa di Drake. Devono voler dire qualcosa. Io resterò qui di vedere... ...un modo per passare. Sì. 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 Questa può tornare utile. Sì. 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 Sei stato tu? Le cose hanno iniziato a muoversi qui. Sì. 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 Grazie a tutti. Salli, mi senti? Dannazione, niente. Dannazione, niente. Dannazione, niente. Dannazione, niente. Ehi, ce l'ho fatta! Ehi, attento, qualcosa non sembra... Tutto bene? Sto bene! Oh! 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 Ok. Ma che diavolo! Oh! Sì, sì. Sì, sì. Grazie, Nate. Ehi, Boulé! L'ultimo a restare in piedi si prende l'oro! Tu hai perso. Uccidete l'entrante!